Rossi oggi è rientrato nel gruppo, l'abbiamo tenuto ancora ieri precauzionalmente, non a riposo ma ha fatto un lavoro differenziato. Politano è rientrato, quindi a parte i nazionali e un po' gli infortunati che insomma conoscete di lunga degenza, tutti gli altri stanno bene. Noi abbiamo preparato una partita consapevoli che andiamo a trovare una squadra in grandissima forma, una squadra che ha un bel test, una bella sfida perché loro stanno bene, noi stiamo bene, sarà una squadra che gioca a ritmi alti e quindi credo che sono quelle partite stimolanti, lo giallo stadio piccolino, un bel clima. Sì sì ma benvengano, insomma io credo che, come dico sempre la mia squadra, si lavora tutta la settimana per poi essere pronti per affrontare le sfide, le partite sempre più importanti. Più importanti sono e sicuramente meglio stai facendo. Noi vogliamo continuare la striscia di risultati utili, è importante però non è una partita secondo me da interpretare da pari, è una partita per andare a giocarsela e poi può venire fuori di tutto. È chiaro che, come ho detto, dobbiamo essere molto bravi, sbagliare poco, ma principalmente giocare con grande intensità mentale perché è una squadra loro che sanno imprimere intensità. Nicolò Gianetti, l'ho cresciuto io nelle giovani del Siena, è un giocatore che ho lanciato io, lo conosco benissimo, è un giocatore che ama muoversi molto, attacca la profondità, i movimenti dell'attaccante è vero. Catellani è un giocatore, insomma, parla piano piano, lui ha trovato sempre di più questa collocazione da punta, quindi agisce qualche volta da seconda, qualche volta da prima punta, però sono giocatori che sanno muoversi. Sarà un test molto impegnativo sicuramente per i nostri centrali che dovranno essere molto attenti, però, ripeto, è tutta la squadra che dovrà adoperarsi in maniera attenta, coraggiosa, convinta, perché è vero che è una squadra che ha un ottimo potenziale offensivo, però anche noi ce l'abbiamo e anche noi possiamo e dobbiamo creare delle preoccupazioni.